Ti riassumo brevemente il mio percorso professionale. Io ho un diploma di liceo classico e subito dopo il diploma ho intrapreso un percorso di laurea triennale in economia aziendale. Dopo la laurea triennale, non contento dei miei studi, ho proseguito con la laurea magistrale in management e innovation management e come ogni studente che si rispetti, durante il mio percorso universitario sono stato sovraccaricato di aspettative sul mondo del lavoro. E una volta che ho iniziato a lavorare, tutte queste aspettative sono state brutalmente deluse. Perché, diciamoci la verità, il mondo del lavoro fa un po' schifo. Nel 2019 ho iniziato il mio percorso da selezionatore per una multinazionale di ricerca e selezione di personale e dopo poco più di un anno mi sono licenziato per avviare questo progetto che ci vede tutti qui riuniti a guardare questo video. E questo mio percorso di carriera avrebbe potuto essere completamente diverso qualora avessi scelto l'azienda giusta tra i miei primi lavori. Io sono Valerio Villani e vi do il bentornato sul mio canale e in questo nuovo video per la rubrica lavoro da sogno, la rubrica esclusivamente dedicata a contenuti di orientamento e di crescita professionale. In questo nuovo video andiamo a fare una cosa un po' diversa dagli altri video classifica perché sarà una classifica personale. Cioè vi racconterò quali sono le mie aziende preferite, cioè quelle per le quali mi farebbe piacere fare uno step di lavoro o comunque collaborare. Come mai sono le mie aziende preferite e perché ve le consiglio. Il mega pippone che avete ascoltato sul mio percorso professionale l'ho dovuto fare necessariamente per spiegarvi come mai nel corso del mio percorso professionale si sono evolute le mie esigenze e come mai cambiano anche queste aziende preferite. Infatti all'inizio del mio canale, proprio due o tre anni fa, avevo già fatto un video simile. Penso di aggiornarlo ogni sei mesi, quindi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti perché ho notato che sul mio percorso sono cambiate tantissime aziende target, aziende obiettivo, aziende con le quali mi piacerebbe collaborare e dipende tantissimo dal momento in cui ci troviamo. Sono sicuro che anche voi avete delle aziende che prima erano proprio dei vostri obiettivi professionali e poi iniziando a lavorare vi sono un po' scadute. Ecco, a me è successo più o meno la stessa cosa. Prima ero un po' più ingenuo, mi facevo un pochino fare dalle aziende che facevano più employer branding mentre in questo preciso momento sento che il mio giudizio sia più crudo e più dettato dalle esperienze e dal fatto che ho conosciuto internamente tantissime realtà. E quindi ci sono motivazioni concrete e tangibili del perché un'azienda è tra le mie preferite o comunque un'azienda obiettivo. Detto questo, direi che siamo pronti per iniziare. La prima azienda della lista l'abbiamo vista in tante altre liste che abbiamo svolto insieme qui sul canale e sebbene vi abbia detto che mi è scaduta un po' nel corso degli anni, resta purtroppo un'azienda troppo utile per i miei obiettivi di carriera. E sto parlando di Procter & Gamble. Procter & Gamble ha un mega fatturato, una mega sede, un pacchetto di brand controllati super interessanti come Brown, Gillette e tantissimi altri che sono sicuro che conoscete. Si guadagna bene, si lavora tanto, ma soprattutto in questa fase della mia carriera sarebbe interessantissima perché è una delle migliori aziende per imparare come fare marketing e come vendere un prodotto. Diciamo che il marketing è proprio il suo cavallo di battaglia e quindi mi aiuterebbe tantissimo a migliorare personalmente dal punto di vista della vendita di prodotti. I feedback poi che ho dall'interno dell'azienda sono tutti molto positivi, quindi top. La seconda azienda di cui vorrei parlare è uscita fuori dall'ultimo video e già il nome Bending Spoon, cucchiaio torto, ricorda il grandissimo Alakazam e quindi già solo question plus, ma soprattutto è una società di sviluppo software e uno dei pochissimi unicorni italiani. Gli unicorni sono quelle aziende definite così perché hanno una capitalizzazione superiore al miliardo di euro o di dollari e nel caso di Bending Spoon è davvero un'eccellenza mondiale per quanto riguarda le aziende italiane e personalmente vedere internamente come viene gestito un unicorno, quindi una startup super forte, sarebbe per me fondamentale e molto interessante. Un'altra considerazione è che la talent acquisition che fa questa azienda è veramente raffinata, fanno i terzi elettivi complicatissimi e sarebbe davvero interessante. La terza azienda raga non posso non inserirla perché è veramente un mio pallino, un mio sogno da sempre, sto parlando di Google. Innanzitutto Dublino, dove c'è la sede principale di Google in Europa, è una delle mie città preferite in assoluto e Google raga è una delle realtà più fighe del mondo. Anche qui si lavora duro, si lavora durissimo, però è anche enorme il reward che uno ha lavorando con loro. Perché raga, vedete, qui bisogna fare un appunto. Lavorare tanto non è di per sé il problema, anzi ci sono tantissime persone come lo ero io che volevano lavorare tanto per vedere i propri risultati e per avere una crescita personale e professionale. Il problema sorge nel momento in cui le aziende non sono chiare sulla mole di lavoro che dovrai svolgere e soprattutto non ti pagano quella mole di lavoro. Infatti mi sono impegnato, come nel caso di Procter & Gamble, a mantenere in questa lista aziende che tu sai che la loro cultura è quella. Quindi tu sai a cosa stai andando incontro, però hai anche dei reward concreti e precisi per poter svolgere quel lavoro e per impegnarti nello svolgere quel lavoro. Ed è questa la differenza ed è questo che secondo me tantissime aziende del nostro mercato del lavoro non sanno assolutamente fare. Un'altra azienda raga di cui vi devo parlare per forza e che purtroppo per me è un odio e amore per una serie di motivi è LinkedIn. LinkedIn devo citarla per forza tra le mie aziende sogno perché rappresenta quello che faccio, quello che so fare e soprattutto quello che mi piacerebbe continuare a fare in futuro e vedere come sempre i processi di gestione, di sviluppo all'interno di questa azienda che è l'azienda leader nel settore in cui sono anch'io quindi nella ricerca di lavoro sarebbe un'opportunità unica. Non mi interessa di LinkedIn né i compensi che offrono né la qualità del lavoro che informandomi un pochettino sono molto indietro rispetto alle altre aziende che abbiamo citato in questa lista, però devo assolutamente inserirla perché per me sarebbe troppo utile. Perché vedete, LinkedIn è un'ottima piattaforma, soprattutto per il networking professionale, ma non rispecchia a pieno le esigenze di tutti noi candidati. E infatti al primo posto della mia classifica e del video di oggi c'è UCB, la mia startup, quella alla quale sto lavorando da ormai più di un anno e che vi racconto ogni tanto su questo canale per portarvi nella mia vita imprenditoriale. In descrizione vi lascio il link per chiunque volesse un po' esplorare il progetto e costruire con la procedura guidata e creata da me il proprio curriculum gratuitamente. Ebbene raga, ho concluso con questo finale col botto perché tutte le scelte sono dettate dal fatto che il mio sogno è quello di far funzionare la startup che sto facendo e tra l'altro ho visto che tantissimi di voi hanno creato UCB seguendo i miei consigli sulla piattaforma, quindi vi lascio anche qui il link in descrizione. Credo che da qui in poi aggiornerò questa lista ogni sei mesi perché mi sta capitando sempre di più di informarmi su molte aziende e quindi quando ne trovo una decente mi va di parlarne e soprattutto fatemi sapere anche voi la vostra lista di aziende obiettivo che magari può capitare che qualcuna non ne conosco e che quindi mi informo e ve ne parlo in maniera più approfondita. La sezione commenti è qui sotto per voi. E direi che per il video di oggi è tutto, grazie per avermi ascoltato e alla prossima!